Buongiorno a tutti, eccoci per proporvi un altro grano tratto sempre da un altro Giorgio Suzuki, visto che ci approcciamo all'inizio del nuovo anno scolastico, mi piace consigliare l'ascolto, quindi lo studio dei brani che certamente per la loro orecchiabilità possono ingoiare lo studio di questo sumetto, con questi brani molto amati dagli studenti. E' la gaotta di Jean-Baptiste Lully, sempre tratta dal terzo volume del Suzuki. Allegretto, nell'andamento tipico della Pagavotte, con l'accento sul primo movimento e sul terzo, è scritto in mezzi ed è un brano molto interessante da studiare anche perché permette lo studio di un'altra posizione con una scale abbastanza rapida e di alcuni campi verso la terza e la seconda posizione. inoltre offre lo spunto per l'approfondimento, per lo sviluppo di alcuni avvelimenti, il quale il trillo e eventualmente il mortente. Bene, buona storia. Grazie. Grazie a tutti. 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 il vostro credimento, ci vediamo alla prossima diretta. Grazie.